Come a Bassano, anche a Tolmezzo, nei mesi scorsi, ha colpito la scure della riforma giudiziaria. In Friuli Venezia Giulia, però, si è pensato di correre ai ripari. Un protocollo d'intesa tra la Presidente Serracchiani e il Ministro della Giustizia Orlando prevede infatti la creazione di un nuovo sportello di prossimità. Quello che è stato fatto in Friuli Venezia Giulia mi sembra un pochino così un mettere la pezza a un errore. Evidentemente è stato grosso a Tolmezzo ed è stato enorme a Bassano. Tant'è che la Presidente Serracchiani con il Ministro Orlando hanno firmato un protocollo per aprire praticamente uno sportello di prossimità per cercare di alleviare l'impatto devastante della riforma giudiziaria che ha accorpato i tribunali, stessa cosa che è successa a Bassano. Io, però, più che lo sportello, voglio vedere il Tribunale della Pedemontana. Certo è, però, che la concessione di questo sportello potrebbe significare domani anche un possibile avvallo governativo al tanto sognato Tribunale della Pedemontana di Bassano. Io non ho molta fiducia di questo governo perché abbiamo visto, insomma, che lo stesso partito PD prima fa la riforma giudiziaria e non ascolta le istanze dei territori motivate con faldoni, migliaia di documenti. Poi, in extremis, forse solo perché è la Serracchiani? Penso che se fosse stato il governatore Zaia la risposta non sarebbe stata la stessa.